L'aeronautica militare ha confermato il ritrovamento dei resti anche del quarto pilota disperso dopo lo scontro di due tornado nei cieli di Ascoli Piceno. Si tratta delle spoglie del capitano pilota Mariangela Valentini avvistate già ieri notte a Poggio Anzù sotto la cabina di pilotaggio distrutta del suo aereo. Ieri pomeriggio nella stessa area era stato recuperato il casco di Mariangela, prima donna pilota di un caccia dell'aeronautica militare, in forza al sesto stormo di stanza Ghedi come gli altri suoi tre colleghi morti nel disastro. Il capitano navigatore Pierpaolo Franzese che volava insieme a lei e i cui resti sono stati ritrovati ieri sempre a Poggio Anzù e il capitano pilota Alessandro Dotto e il navigatore Giuseppe Palminteri recuperati in un'altra zona boschiva il 20 agosto, il giorno successivo all'incidente. Per l'identificazione ufficiale dei quattro piloti tutti giovani fra i 31 e i 35 anni sarà però necessario attendere l'esame del DNA affidato dalla procura ascolana al medico legale Adriano Tagliabracci che si avvarà di un consulente dell'aeronautica. I primi rilievi dovrebbero svolgersi lunedì e solo successivamente i corpi verranno restituiti alle famiglie per i funerali. Intanto proseguono a pieno ritmo anche oggi le perlustrazioni dei boschi sopra i quali due tornado si sono scontrati. Trovata proprio nelle ultimissime ore anche la seconda scatola nera, quella del velivolo di Mariangela Valentini, insieme al primo flight data recorder già in mano agli investigatori, si potrebbe dunque cercare di ricostruire le fasi di un incidente al momento ancora inspiegabile. Ieri una fonte qualificata dell'aeronautica ha confermato che i due tornado stavano svolgendo due missioni addestrative separate ed erano impegnati in task diversi. Si stavano recando in un punto in cui avrebbero dovuto svolgere separatamente i loro compiti che non comprendevano pratiche di combattimento simulato e non avrebbero dovuto trovarsi lì insieme nello stesso momento, riferisce questa fonte. Tre le inchieste aperte, una della procura di Ascoli Piceno che procede per omicidio colposo e disastro aereo colposo, una della procura militare di Verona e l'altra dell'aeronautica.